Grazie. Grazie. Per questo io odio le pause, capito? Allora, riprendiamo il concetto iniziale. Non è che noi oggi ci prendiamo un bando, ce lo leggiamo e siamo bravissimi a leggere i bandi. Non è che tu, come dire, diventi uno specialista. Quello che bisogna fare e che stiamo cercando di fare è come quando si dice banalmente devo andare in Africa, non è che li porto il pesce, devo insegnare agli africani a pescare. Perché loro devono sopravvivere. In questo caso non è che hai fatto un'ora, due ore insieme a qualcuno che ti spiega come funziona una cosa e poi è così, funziona così, sono pronto, so esattamente come funziona la cosa e vado avanti. Vi aspetto così iniziamo tutti insieme. Allora, il concetto che voi dovete, se volete, perché magari a qualcuno non interessa per nulla, che voi dovete rubare e assorbire, farlo diventare vostro, è ci sono delle opportunità. Non è vero che non ci sono. Non sono tante, ma ci sono. Devo impostare, come dire, parte della mia vita a capire quali sono, quelle opportunità che mi diano delle possibilità e far diventare quello che mi piace, possibilmente, il mio lavoro. Noi di questo stiamo parlando oggi. Quindi è un concetto mentale, non è che è una lezione che uno ha imparato e poi va in automatico. Allora, oggi non è che noi stiamo leggendo questa cosa così. Quello è un documento, e vi invito poi ad andarvelo a vedere a casa vostra per i fatti vostri, molto lungo. Cioè, leggere quel documento è, come dire, potrebbe essere per alcuni assolutamente una perdita di tempo. Io vi dico che non è mai una perdita di tempo, perché anche nel caso in cui scoprite che questo bando, questo progetto, questa cosa non sia interessante, comunque avete imparato delle cose che probabilmente prima di leggere non sapevate. Io non ho letto il bando, non ho letto il bando, ho letto i documenti che sono, come dire, a premessa di quello che poi è il bando. Perché? Ho imparato nella mia vita che le cose che sembrano meno importanti alla fine sono fondamentali. Perché quando tu non sai fare una cosa, soprattutto se la fai per la prima volta, il fatto di arrivarci a piccoli passi, e non direttamente, probabilmente vi aiuta a capire tutti quei dettagli che sono utili poi a fare quello che voi state perseguendo. Mi spiego ancora meglio. Oggi voi state capendo più o meno che cosa significa utilizzare dei fondi europei con un progetto chiaro e sicuramente state capendo che gli indirizzati, spero che lo state capendo perché altrimenti non mi sono spiegato bene, siete voi in questo caso specifico. E io vi sto leggendo le premesse perché se voi volete avere uno spirito critico, costruttivo, rispetto a un qualcosa, lo dovete fare però sapendo di che cosa state parlando. Perché vi posso assicurare che nulla di più semplice, e questa è una moda, è una mentalità, soprattutto italiana, è criticare qualcuno ma non sapere quasi nulla di che cosa è successo. Invece sapere esattamente cosa c'è alle spalle vi aiuta a capire perché alcune cose funzionano e alcune cose non funzionano. E soprattutto in questo caso leggere le premesse vi aiuta anche a modulare un'idea in una direzione piuttosto che in un'altra. Il fatto di capire esattamente qual è il circuito dei laboratori urbani, vi ho detto che ce ne sono cento, più di cento, un centinaio nella Puglia, che quasi tutti i comuni della Puglia hanno un laboratorio urbano, ma voi lo sapevate prima. E qualcuno di voi, quello è destinato a voi, ma qualcuno di voi li ha mai frequentati assiduamente e in maniera continuativa. Allora, sicuramente è da merito nostro che non siamo riusciti a farvelo sapere, per incompetenza, per pigrizia, per qualsiasi motivo, ma anche da merito vostro perché a voi non è interessato quella cosa. Voi dovete imparare anche a capire quali sono le opportunità, perché quelle sono cose che sono date, come dire, donate alle persone, ai cittadini e voi potete utilizzarle nel migliore modo che li tenete interessanti per poi quello che è il vostro futuro. Leggere tutte quelle premesse è assolutamente importante perché tu vai a costruirti un percorso, come dire, intellettuale, mentale che ti prepari poi a costruire un progetto che sia un progetto credibile, serio, perché se non è credibile, serio, vi chiuderanno sempre la porta in faccia. Vi dico, anche quando è credibile, serio, vi capiterà che qualcuno vi chiuderà la porta in faccia. Però se l'idea è buona, magari voi continuate e con perseveranza ci credete e la proponete, può darsi che qualcuno a un certo punto dica ok, ti do io una mano. Perché vi ripeto, a meno che uno non ha una famiglia alle spalle che gli dia la possibilità di investire, la maggior parte delle volte lo dovreste fare sulla vostra pelle e farlo sulla vostra pelle da soli in questo momento è difficilissimo. Ieri dicevamo che io sono una delle ultime generazioni in cui ancora andava in voga il posto fisso. In questo momento il posto fisso non esiste più. Anche chi ha un contratto a tempo indeterminato è continuamente a rischio perché le imprese chiudono ormai tutti i giorni, ma anche chi lavora nel pubblico, io parlo dei ragazzi tra i 30 e i 40 anni che sono entrati nel settore pubblico, entrano con contratti precari. Con contratti precari. La regione Puglia sta facendo in questi giorni un bando per 200 posti a tempo indeterminato, non ne faceva uno che da 30 anni. Stiamo aspettando tutti che i professori vadano in pensione per diventare professori. Allora, davanti a una cosa del genere, l'intuizione, devo dire, che per una volta la politica, e vi dico ci sono, ve l'ho detto prima, in tutte le cose, c'è risvolto positivo e risvolto negativo, però a noi poco interessano quelli negativi. Vediamo invece quali sono quelli positivi che possono, come dire, essere utili a noi. Per una volta la politica ha intuito, prima dei cittadini, quali possono essere le direzioni. In Puglia un'industria creativa non esisteva fino a dieci anni fa. L'industria creativa significa sviluppare un percorso che potenzialmente potrebbe essere professionalizzante, costruendo delle professioni che prima non esistevano, quindi opportunità di lavoro, opportunità di lavoro e di alzare la qualità della vita di ciascuno, ma anche di tutta la comunità. Questo è uno degli strumenti. E loro dicono, se voi ci credete e presentate una buona idea, noi ci crediamo con voi, e in base ad alcuni parametri siamo disposti a investire 25 mila euro su quella idea. Io non so se verranno pubblicati altri bandi in futuro, non lo so, ma magari non sarà questo, saranno altre le occasioni. Il discorso è che ognuno di noi si deve abituare che le occasioni se le deve cercare. Se le deve cercare, deve avere un minimo di competenze per poterle approfondire e poi impostare un progetto da consegnare. Qualsiasi cosa è un progetto, anche quello che vi ho detto prima. Quando vostra madre deve fare la spesa, inizia a capire innanzitutto quanti soldi ho. Seconda cosa, che cosa mi serve veramente, perché in base a quei soldi non posso comprare tutto probabilmente. Terza cosa, ma ci posso andare a piedi e quindi vado alla sumeria sotto casa, oppure devo prendere la macchina. Questa è tutta una modalità organizzativa che è banale, ma è quello che poi è la struttura su cui tu vai a costruire tutto. Quante ore devo stare fuori di casa perché poi i miei figli, mio marito magari torna all'una e mezzo e io devo aver fatto trovare il pasto pronto, quindi mica ci vado all'una. Questa è una modalità organizzativa che se tu la riprendi pari pari e la metti su un progetto che tu vuoi realizzare, non è nulla di diverso. La truffa allo Stato, che poi sono i nostri soldi, è la cresta di cui parlavo prima. È uguale. Quindi immaginiamoci una cosa concreta. Questo band è destinato agli under 35. Primo elemento. Secondo elemento, non è detto che questi under 35 siano già in forma aggregata, in forma ufficiale, voglio dire che può essere anche un gruppo informale, una classe di una scuola che decide di avere un'idea e decide di mettersi insieme, costituisce l'associazione questa, che sezione è? Esistono ancora le sezioni nelle scuole? Sì, sì, la sezione A, la B. Allora, chiamate l'associazione, sezione A e B, così siamo tutti contenti. Presentate un progetto su questo posto e prima di presentarlo fate tutto il percorso che sta scritto lì. Il percorso qual è? Leggere, esattamente cosa vi viene richiesto, a partire da quelle premesse che di solito non legge nessuno ma che sono importanti. e magari anche iniziare a visitare i laboratori urbani dei paesi comuni, quindi magari la domenica anziché svegliasse a mezzogiorno uno dice diavolo andiamo a Barletta, vediamo il laboratorio urbano di Barletta, cosa fa e com'è. Oppure diventate amici del laboratorio urbano di Andria, presuppongo che abbia una pagina Facebook, un sito internet. quanti di voi sono amici di questo laboratorio urbano? Sulla pagina Facebook. Tre persone, quattro persone. Ah, qualcuno in più. Ma secondo voi è normale che io vado in un posto che è destinato ai giovani dove c'è un'attività destinata a me e io non ho avuto la curiosità di andare a vedere prima che cosa facesse? Che significa? Spiega bene questa cosa. Stare sempre qua fuori che significa? Ok, quante persone secondo te si riuniscono la sera qui? 30 persone? 40. E quante persone poi frequentano questo posto di quelle 100 persone? Veramente lo frequentano, non dico che entrano a prendersi la birra e escono, quello è un locale e il fatto che il laboratorio urbano sia anche quello va bene, però avete capito che non è soltanto quello. Ma quando c'è un corso che interessa la maggior parte dei ragazzi pubblici ok, secondo voi tutti i giovani di Andria frequentano questa piazzetta? Tutti quanti ci passano? Tutti quanti ci passano. Quante attività? Qualcuno di voi ha fatto attività qua al laboratorio urbano? Laboratori, non lo so. Quanti di voi? Allora, se uno su 20, su 25, ok, non è una percentuale un pochino misera, perché se funzionava come dicevi tu, a parte il fatto che per dirtela io sarei felicissimo perché voleva dire che io non devo fare più pubblicità, manifesti, locandine, siti, internet, perché funzionava il passaparola o semplicemente perché la location era già affacciata sul luogo di passaggio e quindi bastava quello e qualsiasi cosa che io facessi era sempre pieno. Però, da quello che tu hai detto a quello che poi hai risultato significa semplicemente che tu hai partecipato a un'attività, ma il motivo sicuramente non è quello perché la sera tu passi il tempo qui, perché altrimenti anche loro lo avrebbero fatto. Sì, no, sicuramente, ma è giusto che sia così. Quando lui diceva, scusate, le cose che abbiamo detto prima parlavano di multifunzionalità e di avere più proposte possibili anche per quello e va benissimo. Lo facciamo anche al Chisme, ve l'ho detto ieri. Noi il teatro non lo usiamo soltanto per le rappresentazioni teatrali, lo usiamo anche per tantissime altre cose. Da una parte per assicurarti sostenibilità economica, dall'altra parte per relazionarti con più gente possibile che ti conosce. Detto questo, se un gruppo di ragazzi siete 20-25, tutti tra i 16 e i 18 anni abbiamo capito, più o meno, c'è solo uno che ha partecipato attivamente a un laboratorio. Anche se poi tu mi dici che la piazzetta che è davanti al laboratorio urbano, è frequentatissima, c'è qualcosa che stona, perché perlomeno doveva essere uno quello che non doveva aver partecipato mai, non il contrario. Invece le percentuali sono esattamente al contrario. Che significa questo? Che probabilmente due sono le possibilità. O quello che viene proposto dal laboratorio urbano non interessa ai ragazzi e può essere, e questa è la distanza che bisogna colmare che vi dicevo prima della pausa, cioè il fatto che se io non parlo con i ragazzi e i ragazzi non parlano con me probabilmente io non conosco le loro aspettative e i loro desideri, le vostre, e voi non conoscete le mie competenze perché magari invece scoprite che io so fare una cosa e qui dentro si fa una cosa che a voi potrebbe interessare tanto ma se non ci parliamo, se non ce le diciamo queste cose e se non c'è anche un passo da parte vostra, non ne so stare pure, io sono stato, scusate il termine, al cazzeggio per ore nelle piazze a bermi una birra o a fare chiacchiere con gli amici e certe volte entravo nel locale e partecipavo anche a qualche attività che veniva fatta in quel locale, questo è assolutamente normale ma è un processo come dire spontaneo e naturale, tu devi anche un po' forzare le cose, quando io vi dico non è che il gestore del laboratorio urbano o di qualsiasi altro posto viene a casa, ti citofa e dice scendi che devi fare questa cosa, sei pure tu che te la devi cercare l'opportunità e cercare non significa che deve essere per caso, significa che devi mentalmente proprio strutturare la tua vita anche in quello perché le possibilità non ti vengono a citofonare o a telefonare a casa, te le devi cercare, vi ripeto rispetto ai giovani del passato voi avete molta più semplicità perché sapete usare meglio di me internet, sapete usare meglio di me le tecnologie e sapete benissimo che magari senza esserci venuto una volta al laboratorio urbano di Andrea potreste sapere esattamente che cosa hanno fatto nell'ultimo anno entrando nel loro sito semplicemente quindi capire che cosa significa il laboratorio urbano destinato ai giovani dedicando mezz'ora della vostra vita oggi pomeriggio andando su internet e andando a vedere quali altri laboratori urbani sono aperti e che cosa fanno e perché lo fanno e funzionano allora non dico che tutte le attività cioè che tutte le informazioni le recuperate così ma iniziate a farvi un'idea i piccoli passi di cui vi dicevo prima sono esattamente questi iniziate a farvi un'idea concreta di una cosa che vi può interessare pensare che avvenga tutto così automaticamente è assurdo magari fosse così invece bisogna dedicarci del tempo e delle energie questo è un posto vostro che voi potreste frequentare non dico tutti i giorni ma quasi come sì come tutti gli altri laboratori urbani che sono aperti in Puglia così come tutti gli altri spazi culturali ed è merito nostro perché forse non riusciamo a informarvi nel modo giusto perché io la prima cosa che ho fatto a Martina Franca è andare a parlare con tutte le scuole superiori il progetto era destinato esattamente ai ragazzi delle scuole superiori agli under 35 ma tu parti dai ragazzi tra i 14 15 e i 18 anni sono loro gli adulti del futuro quindi noi a Martina Franca siamo andati nelle scuole a spiegare che cosa avevamo in mente di fare inizialmente siamo stati noi a proporre le nostre idee dopodiché qualcuno che è iniziato a frequentarci per curiosità tra una birra e l'altra anzi tra un succo di frutta e un bicchier d'acqua e l'altro perché probabilmente qui qualcuno vende ai minorenni non lo dovrebbe poter fare e magari ha iniziato a frequentarci a proporci delle idee e vi posso garantire che le più belle idee sono venute da ragazzi che apparentemente poteva essere uno qualsiasi di voi che non cioè tu non ci scommettevi un euro noi adulti siamo sempre così abbiamo sempre i pregiudizi tu non è venuta a me in mente l'idea geniale di venire a te che non hai visto niente della vita e forse proprio perché non hai visto niente tu sei in grado di portare una cosa che non ha mai fatto nessuno in quel modo non si scopre mai nulla ma forse mettendo insieme tre o quattro idee intelligenti te la sei inventata un'idea ma io guardandoti dico no tu 17 anni che cosa hai visto sei uscito mai dalla Puglia sei andato mai in giro per il mondo io ho visto questo ho fatto questo ho fatto questo però ci bisogna confrontarsi e soprattutto non bisogna avere il pregiudizio che io non abbia idea e che tu non abbia idea perché non è così però ci vuole lo stimolo che cos'è lo stimolo quello che stiamo facendo un po' oggi cioè parlarci interrogarci e chiederci delle cose ora laboratori urbani io vi sto parlando di questo perché lo stiamo vivendo noi oggi stiamo vivendo un laboratorio uno spazio molti di voi lo stanno vivendo per la prima volta alcuni sono già venuti prima alcuni altri l'hanno semplicemente utilizzato per passare qualche ora vivendolo voi potreste anche immaginarvi un'idea è un'idea leggendo quel bando potreste imparare anche a metterla su carta ora vi dico quattro cose fondamentali che richiede il bando se riesco a leggere perché è piccolissimo il bando fa parte della nuova strategia della regione Puglia per riattivare potenziare e mettere in rete tutti gli spazi per i giovani nati in Puglia all'interno di ex edifici pubblici abbandonati che è esattamente quello che dicevamo stamattina ex non sta per edifici pubblici sta per abbandonati quello è il senso ma uno spazio anche se è aperto perché c'è qualcuno che magari ha avuto pur dei soldi per venire ad aprire e chiudere la porta ad accendere la luce se non è frequentato è abbandonato comunque lo scopo deve essere quello che si è vissuto attraverso il bando la regione Puglia intende favorire lo sviluppo dei laboratori urbani sviluppare competenze per l'occupabilità e imprenditoria giovanile migliorare la qualità dei laboratori urbani attivi che cosa dice fondamentalmente noi abbiamo messo dei soldi abbiamo recuperato degli edifici pubblici e molti di questi laboratori sono stati avviati alcuni hanno già completato l'attività degli anni di gestione quindi sono chiusi perché alcuni sono partiti nel 2006 2007 altri invece sono in vita ma sono sotto utilizzati allora dice cari ragazzi che avete meno di 35 anni se avete delle buone idee proponetele ai gestori dei laboratori urbani o nel caso in cui il laboratorio urbano è chiuso andate direttamente al comune e date lanciateli l'idea costruitele insieme e presentatemi un progetto che significa costruirlo insieme fare l'unione e parlare 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 e capire se le idee che avete in mente sono quelle giuste o no perché parla di occupabilità delle nuove generazioni perché il progetto lo dicevamo stamattina quando abbiamo visto il primo trailer un progetto deve avere anche una sostenibilità economica per essere un serio progetto altrimenti è un'attività fatta che a un certo punto muore lì ed è finita se c'è qualcun altro che la vuole riproporre ok altrimenti è finita un progetto imprenditoriale perché stiamo parlando di questo significa avere una visione anche di sostenibilità economica che cosa significa sostenibilità economica significa esattamente che nel momento in cui io ho un'idea sviluppo il progetto e parte da quel momento in poi anzi in realtà sto sbagliando dal momento in cui voi avete l'idea ci state lavorando anche se gratuitamente già state utilizzando del tempo e quindi anche delle economie voi state studiando ma quando sarete pronti per lavorare se non state lavorando state perdendo potenzialmente dei soldi oppure se decidete di non lavorare perché state presentando un progetto state rinunciando a un qualcosa a uno stipendio per fare altro gli artisti questo fanno molti degli artisti alcuni degli artisti hanno abbandonato il lavoro che facevano i più grandi artisti magari erano dipendenti di banche erano ragionieri Vasco Rossi se non sbaglio era un ragioniere poi ha lavorato in radio ha lasciato lo studio per cui lavorava poi ha lavorato in radio e poi è diventato un cantante non è che abbia chissà qualità vocali non ha chissà quali io sono un fan di Vasco Rossi andrò pure al concerto a luglio però sicuramente non mi piace perché è un grande cantante ci sono cantanti molto meglio di Vasco Rossi ma ha una personalità una visione che altri non avevano quello che ha fatto ha detto investo su me stesso lascio la tranquillità del posto fisso voi tanto non avrete questo problema perché il posto fisso il 90% di voi non lo avrà non l'ho mai avuto ma credo che tutti gli adulti tranne la professoressa in questa stanza non lo hanno e si costruiscono il loro futuro mettendosi insieme ad altri o da soli da soli se avete un talento non si fa comunque niente perché qualcuno che ti dà una mano internamente un gruppo di lavoro esternamente ci deve essere allora vi mettete tutti insieme ragionate su quello che volete fare chiedete al gestore del laboratorio urbano ok noi abbiamo avuto queste cinque idee possiamo ragionarci vi confrontate perché lì dice o vi relazionate al gestore o vi relazionate al comune se il laboratorio urbano è chiuso quindi il gestore con voi lo deve costruire un progetto non è che voi pensate di farlo di scriverlo di dire al gestore poverino dammi l'ok o è così o niente non è così che funziona le cose si fanno insieme quindi il gestore con voi costruisce il progetto una volta che il progetto è definito va al comune e dice caro comune io gestore insieme ai ragazzi dell'associazione A e B voglio candidare questo progetto al bando mettici le mani il comune dovrebbe leggersi la scheda progettuale dovrebbe leggersi la scheda progettuale dare a sua volta un ok si mette tutto in una busta e si porta in regione ora non lo leggeremo il bando è inutile leggerlo punto per punto quello che vi dovete capire è come qual è la testa con cui lo dovete leggere sapete che è uno dei motivi per cui alcuni sono stati escusi sappiate che quando tu partecipi a un bando devi preparare il bustone all'interno del bustone ci metti altre buste dove c'è l'offerta progettuale la scheda tecnica e poi anche la proposta economica molti si dimenticano di fare le tre buste e mettono tutto in un unico plico perché sono tre buste? provatevelo a chiedere arriviamoci per logica perché la prima cosa che io devo fare in qualità di ente vedere se i partecipanti hanno le caratteristiche per poter accedere o no a quei finanziamenti quindi quando uno si legge un bando dice under 35 ma noi siamo under 35 vediamo siamo l'associazione B i componenti dell'associazione sono under 35 nella maggioranza? sì perché sono andato a verificare poi mi dice ma tu rispetti le normative sul lavoro? ok fammi verificare che cosa succede? la prima busta è quella dei documenti io la apro sono l'ente la apro e dico ah ok hanno tutte le carte a posto posso aprire la seconda se non avevate le carte a posto non arrivate neanche alla seconda busta l'ente vi esclude già per questo devono essere buste separate perché la prima è della documentazione amministrativa che deve rispondere a quello che vi dice il bando quindi se qualcuno non è in regola viene escluso già per quel motivo la seconda busta è l'offerta progettuale l'offerta progettuale non è altro che la descrizione di quello che volete fare nelle modalità e nei tempi indicando esattamente quali sono le vostre idee e come in base a quello che vi chiede il bando si devono sviluppare nel periodo in cui dovete fare il progetto perché è separata dalla terza busta che è l'offerta economica perché l'ente dà una valutazione qualitativa di quel progetto che di solito funziona così su 100 punti assegnati 80 punti ad esempio sono per la valutazione progettuale 20 punti sono per l'offerta economica perché se voi mi presentate se fosse basato tutto sull'offerta economica vincerebbe soltanto quello che propone di meno cioè io chiedo a lei vuoi fare la babysitter a mia figlia chiedo a te vuoi fare la babysitter a mia figlia quanto chiedi allora quanto 20 euro all'ora sei carissima 20 euro all'ora tu vuoi fare la babysitter a mia figlia quanto chiedi un po' di meno quanto chiedi 6-7 euro all'ora vedi lei conosce il mercato quella è la cifra io chiederò sicuramente a lei di fare la babysitter e non a te poi magari scopro scusate scopro che tu sei bravissima tu sei bravissima sei un'ottima babysitter e lei è assolutamente incompetente ok se io facessi una valutazione soltanto economica probabilmente avrei soltanto incompetenti in questo caso babysitter incompetenti in altri casi gestori incompetenti in altri casi progettisti incompetenti capita non so se avete sentito nel mese di dicembre un ponte che è stato costruito credo in Sicilia dopo una settimana è crollato probabilmente l'offerta economica di quell'impresa era talmente bassa perché era bassa e gli altri erano alte perché utilizzava sicuramente materiali non come dire di alto livello stato affidato a quello che ha presentato l'offerta più bassa sto facendo un'ipotesi perché non conosco la storia e poi dopo una settimana è crollato ora lei è una babysitter assolutamente incompetente probabilmente dopo la prima esperienza mi pentirò e dirò avessi chiamato lei magari anziché 20 gli dicevo sentite ne do 10 però vieni tu perché tu sei in grado di farlo sei brava lo sai fare lei no ora questo è il motivo per cui c'è la valutazione economica separata dalla valutazione progettuale e soprattutto prima si apre quella progettuale e poi si apre la busta dell'offerta economica quindi la valutazione è il massimo che posso avere al minor prezzo il punteggio della valutazione qualitativa è sempre più alto di quella economica proprio perché la qualità del progetto deve essere più importante della cifra con cui mi viene proposto quindi il secondo passaggio è che l'ente quando riceve il vostro plico dopo aver aperto la documentazione amministrativa e avervi ammesso valuta il progetto valuta il progetto in base ai parametri che vengono indicati in tutti i bandi quindi da una valutazione e vi assegna un punteggio tutti quelli che hanno superato questa seconda prova perché alcuni possono essere esclusi anche per la valutazione qualitativa è vero che è molto soggettivo perché magari il torneo di scacchi a me può piacere tantissimo e io do 7 come punto e lui dice questa è una schifezza questa idea progettuale ti do un punto è soggettiva ma di solito è una commissione che valuta i progetti quindi comunque il punteggio è dato dalla media dei punteggi che ogni singolo commissario che fa parte è un po' come gli esami decide di assegnare quindi viene fatta una valutazione sul progetto artistico viene dato un punteggio soltanto dopo si apre la terza busta che è quella dell'offerta economica quell'offerta economica in base a un calcolo ben preciso viene valutata gli viene dato un punteggio che viene sommato a quello della valutazione artistica questo è il punteggio finale si costruisce una graduatoria e chi arriva primo gli viene fatta una giudicazione provvisoria perché provvisoria non definitiva cioè io ti dico hai vinto tu se questo significa provvisoria perché tu nei documenti probabilmente mi hai dichiarato di avere tutte le carte a posto perché io non è che posso darti tutto un malloppo di roba già in fase di presentazione quindi l'ente che fa verifica attraverso una serie di modalità se quello che tu mi hai dichiarato è corretto oppure no perché qualora non fosse corretto quella giudicazione che era provvisoria non è più provvisoria ma viene annullata se invece tutto che diventa definitiva questo è il funzionamento di un bando di gara complesso questo bando di gara è molto più semplice perché è molto più semplice perché si relaziona comunque a giovani e certo io non mi immagino di fare un bando di gara come se stessi dando che ne so a voi il compito di costruire il ponte di Messina nello stretto di Messina vi sto dicendo presentatemi un progetto del valore di 25 mila euro massimo di 25 mila euro che abbia questi parametri quindi il progetto è molto più semplice questo significa che voi dovreste essere in grado di lavorarci e quando non siete in grado di lavorarci prendete il pullman andate nell'assessorato vi posso garantire che in questo caso c'è sempre massima disponibilità e andateci a parlare ma questo vale per tutte le cose e soprattutto se ci sono dei dubbi ve l'ho detto ieri l'amministrazione non parla scrive quindi se tu hai un dubbio su un progetto su un bando di gara a parte che averne parlato se è una cosa che potrebbe essere appena di esclusione non siete non vi consiglio vi obbligo a scrivere e a pretendere una risposta scritta perché un domani se vi dovesse escludere per quel motivo voi avete una risposta scritta ora con le tecnologie ci sono le FAQ ieri ne parlammo quindi è tutto molto più veloce non dovete mandare una raccomandata e aspettare una raccomandata molto spesso non tutti però molti si sono muniti delle FAQ quindi tu scrivi una cosa sul sito e la risposta è sul sito tra l'altro vuol dire che è pubblica perché quel chiarimento che voi avete chiesto serve a tutti quelli che vogliono partecipare a quel bando di gara per questo sono FAQ pubbliche nel sito ora ma quanto tempo abbiamo? 20 minuti abbiamo più ora dice titolari della gestione di un laboratorio urbano quindi se voi poste già titolari della gestione di questo laboratorio urbano già potevate candidarvi ma non lo siete siete ragazzi che hanno meno di 18 anni non lo siete probabilmente una parte di voi che tra un po' farà 18 anni potrà se vuole candidarsi a una cosa del genere e poi dice una cosa fondamentale un possesso di un accordo di partenariato con l'organizzazione titolare della gestione accordo di partenariato non è altro che quello che dicevamo prima io gestisco il laboratorio a Bari no? lui viene da me mi propone un'idea se a me l'idea non piace o non la reputo come dire giusta rispetto a quello che vorrei fare non glielo do l'accordo di partenariato quindi lui non può come dire candidarsi al progetto ecco perché bisogna farlo insieme è chiaro che l'intuizione deve essere la vostra io ci devo mettere tutta l'altra parte che però voi non conoscete i dettagli tecnici organizzativi soprattutto e forse qualche spunto rispetto a una riflessione riguardo all'organizzazione e alle economie perché tutto poi arriva a quello tutte queste chiacchiere poi sono quelle che portano allo spettacolo che vi ho fatto vedere stamattina perché questo è un bando dove cerchi dei soldi da un ente quello non era un bando ma comunque i soldi io li ho trovati in qualche modo per poter realizzare quello cioè il mio obiettivo non è quello di vincere il bando e basta ma di fare il progetto che poi voglio in questo caso era lo spettacolo vi piaceva quel poco che avete visto vi ha colpito o non stavate guardando neanche cioè una cosa del genere a me è quello che ha colpito nel lavoro che faccio io voi dovete trovare quello che colpisce voi allora lo scopo è fare quello non tutta la fuffa intorno cioè quello che io vi sto dicendo non è perché è fine a se stessa cioè partecipare ai bandi poi c'è chi si appassiona proprio a fare questo della vita e sa scrive benissimo i progetti sa scrive benissimo i bandi e gli interessa poco o niente della parte artistica magari quella è una figura organizzativa amministrativa che affianca una figura artistica perché le due cose non vanno separate vanno insieme in maniera parallela e molto spesso si incrociano e si scontrano anche nel senso che magari certe volte è lui che me la lancia un'idea artistica certe volte sono io che siccome ho scoperto questo bando gli dico guarda che c'è questa possibilità tu che idea hai volete sapere come ha funzionato a Bari ad esempio il laboratorio urbano di Bari rispetto a Mettici le Mani viene pubblicato il bando a fine ottobre il bando è a sportello sapete che cosa significa vuol dire che io nel mio cassetto ho un milione di euro posso finanziare fino a 25 anzi in questo caso sono un milione e mezzo posso finanziare progetti fino a un massimo di 25 mila euro fate una divisione la prima cosa da fare una valutazione se la regione può spendere un milione e mezzo di euro che ha messo nel cassetto è il massimo finanziabile 25 mila euro non vi chiederò di fare la divisione perché so che non la farete quanti progetti ipotizzando che tutti vengono finanziati 25 mila euro quanti sono i progetti finanziabili? 60 un milione e mezzo diviso 25 mila 60 uno dice 60 progetti ma sono pochissimi in realtà perché noi stiamo parlando di un'intera regione dove ci sono 100 laboratori urbani quindi 60 progetti approvati non coprono neanche tutta la regione e neanche tutti i laboratori quindi la mia idea deve essere una buonissima idea ok a sportello che significa? che ogni ragazzo associazione A associazione B e tutte le altre associazioni di tutto il territorio regionale iniziano a presentare i progetti alcuni hanno iniziato già a novembre quando è stato pubblicato il bando quindi che cosa significa? che loro a un certo punto bloccano dicono ragazzi abbiamo ricevuto già 200 progetti stoppa le telefonate e iniziano a fare la valutazione se la valutazione è positiva quando finisce il milione e mezzo è chiuso il bando quindi vale anche la tempistica con cui viene presentato il progetto tra l'altro un'altra informazione importante di un bando come questo è che loro ti dicono ogni laboratorio urbano può accogliere al massimo tre progetti di mettici le mani ora ad Andrea che voi sappiate qualcuno ha proposto un progetto mettici le mani e secondo voi non è un'occasione sprecata che una città come Andrea che è una delle città più grandi in Puglia è una delle più importanti credo che siamo oltre 100.000 abitanti cioè Bari ne ha 320.000 Bari città poi c'è tutta l'Interland ma è un altro discorso quindi siamo come dire un terzo di Bari è uno dei comuni più importanti e più grandi ok è possibile che ci siano dei fondi messi a disposizione per dei giovani e i giovani in una città come Andrea neanche ci provino no non è un'accusa ci mancherebbe altro però secondo voi è logica sta cosa però poi trovi sempre gente al mercato al supermercato al cinema che dice vabbè ma qui non ci sono mai le possibilità tutti chiudono le porte in faccia ma perché noi la responsabilità non ce la prendiamo mai quando siamo noi che ci dobbiamo attivare per fare dei passi verso qualcosa e raggiungere un obiettivo tre progetti massimo tre progetti per ogni comune vuol dire che potenzialmente questo laboratorio urbano potrebbe ospitare tre progetti di 25.000 euro ciascuno quindi sono 75.000 euro per svolgere attività per un anno con tre gruppi di associazioni di ragazzi under 35 quello sarebbe il massimo nella teoria sarebbe proprio fantastico nella pratica è difficile che passino tre progetti ma se non ne vengono presentati neanche uno è sicuro che non ne passa neanche uno allora se non succede ad Andrea che è un centro importante grande ora non mi sono andata a vedere quanti giovani under 35 tra i 18 e i 35 anni ci sono ad Andrea però questa è un'informazione vi posso dare un'altra dritta andate su comuni.italiani.it scrivete la città e capite anche da che cosa è composta la cittadinanza del vostro paese e scoprite quanti sono i ragazzi quanti sono gli anziani quanti sono i bambini quanti sono in base alla fascia d'età scoprite anche la verità sul fatto di quanti extracomunitari sono qui c'è anche quello perché poi l'altra moda siamo inondati dagli extracomunitari poi vai a scoprire sono il 7% della popolazione e tra l'altro non sono qui da noi saranno il 3% perché qui non c'è lavoro neanche per noi magari sono quasi tutti al nord allora cioè bisogna informarsi perché la critica deve essere costruttiva da una parte soprattutto voi avete gli elementi per poter dire la vostra e fare la vostra però vi dovete muovere dovete muovervi e dovete essere voi intraprendenti perché ci sarà qualcuno più veloce di voi adesso la velocità è fondamentale ora 25.000 euro a progetto oggi pomeriggio parleremo di come potenzialmente si possono spendere questi 25.000 euro tra l'altro io dico sempre dire spendere è sbagliatissimo bisogna investire cioè quei 25.000 euro devono far sì che si trasformino in 50.000 che è attività imprenditoriale qual è la differenza tra spendere 100 euro e investire 100 euro bravissimo e fammi un esempio spendi 100 euro quando ti compri tipo io spendo 100 euro per comprare una macchina fotografica questa macchina fotografica se io faccio delle belle foto quelle foto potrebbero essere valutate 200-300 euro bravo è un progetto di investimento cioè tu stai spendendo su qualcosa che potrebbe essere un moltiplicatore però questo nella teoria come farlo diventare pratica? le azioni anche le azioni però lì non sei tu cioè lì è una scommessa è come giocare la schedina metto 100 euro sulle azioni in borsa e poi magari si trasformano in 70 euro dopo un'ora perché sono state svalutate quelle azioni quella è una scommessa è un investimento pure quello però è una scommessa su cui tu non hai nessun potere anzi affidi i tuoi soldi alle banche e le banche a cui non interessa niente del risparmiatore che fa l'investimento li utilizzano al loro modo e assolutamente con dei loro obiettivi quindi tu lì non sei attivo tu affidi i tuoi soldi a un altro che non conosci neanche in realtà conosci soltanto forse il direttore della sede qui che ti ha consigliato di fare così e poi succede come è successo con i bond argentini o con la Parmalat che tutte le banche consigliavano di acquistare quelle azioni sapendo benissimo che poi alle spalle era fallito già tutto e poi la gente che investiva 100 euro se ne è ritrovata 20 ci ha rimesso 80 euro per essere proprio pratici il progetto suo dice io secondo me sono bravissimo a fare le foto come faccio? mi servono 500 euro per comprare la macchina fotografica perché quella macchina fotografica è quella che mi può garantire il massimo della qualità con quale scopo lo faccio? due sono le possibilità o lo faccio perché per passione e quindi le faccio me le tengo io a casa mia e le faccio vedere ai miei amici e miei parenti oppure ha uno scopo imprenditoriale quindi una cosa è spendere lo faccio per passione lo faccio perché è una cosa che piace a me ed è quello che molti di noi fanno tutti i giorni l'altro modo invece è investire perché lo sto facendo con uno scopo cioè quello di fare le fotografie e venderle e magari recuperare i 500 euro e guadagnarne altri 500 che significa esattamente portarmi a casa uno stipendio attività imprenditoriale quella è la spesa è un costo quello invece è un investimento due cose totalmente diverse nell'idea concettuale cioè proprio l'atteggiamento è diverso ora il fatto di riuscire a vendere cioè da allora innanzitutto devi trovare i 500 euro ok quindi ecco perché vi dico voi ragionate in maniera molto banale e poi trasformate quella banalità in un concetto imprenditoriale trovare i 500 euro è quello che ci dicevamo ieri allora o partecipi a un bando trovi un bando in cui tutti quelli che vanno a comprare macchine fotografiche presentano un progetto e prendono 500 euro non ne ho mai visti i bandi così però magari c'è anche se in questo bando tu potresti scrivere anche una cosa del genere laboratorio di fotografia cioè previsto che nei 25 mila euro 5 siano spesi in attrezzature quindi uno dice io per fare un laboratorio di fotografia serio ho bisogno di 5000 euro per comprare le attrezzature quindi la macchina fotografica magari anche la telecamera ok esattamente quello perché tu lo leggi e dici no ma che c'entra questo con quell'idea che ho avuto io invece c'entra assolutamente quindi 5000 euro li spendi in attrezzature tecnologiche macchina fotografica e quant'altro magari il software anche per poi lavorare sulle foto dopodiché il bando dice anche perché lo dobbiamo collegare me ne rimangono 20 di quei 20 sul bando c'è scritto 2500 euro in tutto l'anno perché il progetto deve essere di un anno li devo dare al laboratorio urbano per coprire i costi generali perché ve l'ho detto cioè lo vedete qualcuno ha messo le sedie poi è stata accesa la luce il riscaldamento poi qualcuno ha fatto le pulizie quando siete arrivati avete visto che c'era quella signora che stava facendo le pulizie poi c'è una persona che ha aperto e ha chiuso quindi ci sono dei costi allora il progetto prevede che tu una piccola parte sono 250 euro al mese vengono date al laboratorio urbano per coprire più o meno una serie di costi generali che non sono imputabili le 30 al progetto ne rimangono 17.500 euro allora noi ora stiamo dicendo tu stai facendo hai detto l'investimento compro la macchina fotografica faccio le foto e poi le rivendo come le investiresti innanzitutto sei giovane hai bisogno di un maestro di un esperto quindi tu con quei 17.500 euro prenderesti un po' di soldi sì però qui stiamo parlando di giovani io non immagino che uno nasca già imparato allora sto facendo un'ipotesi di questo tipo quindi ti serve un esperto ti trovi il massimo esperto lo chiami e gli dici senti ma se tu venissi una volta alla settimana a fare una cosa qui ad Andrea quanto ti dovrei dare perché io voglio imparare a fare le foto non come le fete un meglio e lui ti dice senti io posso venire due volte al mese mi devi dare 500 euro al mese tu dici inizia a ragionare inizia a ragionare sul progetto e lo stai incrociando anche con il dato economico ok lui mi ha chiesto 500 euro al mese ma fammi andare a vedere su internet prima non c'era questa possibilità o li conoscevi direttamente o per informarsi era difficilissimo adesso tu vai su internet e inizia a vedere la sua scheda biografica quella sua quella sua quella sua e inizia a confrontare le cose allora inizia a dire questo mi ha chiesto 6.000 euro ogni un anno 500 per 12 sono 6.000 mi ha chiesto 500 euro al mese per venire due volte fammi andare a vedere ma esattamente è proprio quello che mi serve o c'è qualche altra possibilità puoi scoprire che ce ne sono mille di possibilità puoi scoprire che lui effettivamente è l'eccellenza in quel campo ed è per quello che costa così tanto quindi li merita così come merita la macchina fotografica di valere 500 euro e non 50 euro tu dici siccome questo è un lavoro io lo voglio far diventare un lavoro devo rivolgermi al massimo a cui posso arrivare quindi chiami lui e spendi 6.000 euro ogni un anno soltanto per far venire lui quindi da 17.500 euro siamo arrivati a 11.500 dopodiché inizia a dire vabbè ok abbiamo chiamato il docente abbiamo comprato la macchina fotografica che altro che altro devo fare abbiamo dato un rimborso anche alla struttura ho ancora 11.500 euro che cosa posso fare scoprire la pubblicità quelli stanno già nei primi 5.000 la pubblicità del laboratorio ok perché è importante lui dice ma siamo tutti qua dalla mattina alla sera quando non c'è scuola dalla mattina alle 9 fino alla sera alle 10.30 a 11 siamo buttati là e poi ce ne andiamo a ballare ok lui dice così poi scopri che uno soltanto lui ha partecipato a un'attività tu lo devi far sapere a più gente possibile ma soprattutto siamo nella comunità europea non lo devi sapere soltanto il quartiere intorno al luogo in cui sei possibilmente lo dovrebbe sapere tutta la comunità europea ora non è che puoi fare una campagna promozionale di un milione di euro su un progetto di 25 ci mancherebbe altro però devi sapere che più gente lo sa e più il tuo prodotto può avere successo il tuo progetto può avere successo se uno non ha una bella idea ma non la dice l'altro non la sa quindi quella proprietà quella informazione è solo tua allora devi far sì che lo sappia più gente possibile e che non lo sappia soltanto ad Andrea perché se tu stai facendo venire l'eccellenza lui è l'eccellenza tu hai chiamato l'eccellenza vuol dire che forse pur da Napoli può venire qualcuno perché magari è un'occasione unica questo lo dicevamo prima se tu sei specialista di una cosa la gente viene da te perché sei l'unico che la sa fare ok quindi tu hai chiamato l'eccellenza allora devi fare un piano di comunicazione online ma anche stampato che ti consenta di far arrivare quell'informazione a tutti il più possibile magari metti pure la pubblicità sui giornali quindi destini un budget anche sulla promozione destini 6500 euro per fare cifra tonda così da 11,5 siamo arrivati a 5 ok ti rimangono 5000 euro per il tuo progetto tu hai detto compro una macchina fotografica faccio le foto banalmente faccio le foto sono belle le rivendo quindi hai comprato le attrezzature adesso ce le hai faccio le foto siamo arrivati al punto che ho chiamato anche un docente bravissimo che mi insegna a fare le foto le rivendo manca l'ultimo passaggio le rivendo tu devi capire qual è la strategia con cui devi arrivare a quello che compra fare delle mostre brava è chiaro che tu lo stai facendo qua in laboratorio probabilmente la prima mostra la farei qua è evidente però tu puoi campare su potenzialmente 5 andresi che comprano delle tue foto una volta che si è avuto i nonni i parenti gli amici cioè alla fine non si ricompra nessuno e soprattutto le foto di un artista emergente o anche i quadri di un artista emergente siccome sia un emergente probabilmente non li comprerà mai nessuno e non danno neanche interesse quindi la modalità con cui devi farlo è investire anche nelle mostre cioè magari andare a Roma a Bari a Roma volendo a Parigi a New York a Miami è come investire sulla possibilità di andare a parlare con chi gestisce le gallerie d'arte e dire senti io voglio fare una mostra qui queste sono le mie opere d'arte ti piacciono? per poterlo fare non è che tu devi prendere in filo la galleria d'arte non è così che funziona la galleria d'arte è come un direttore artistico che decide che spettacoli mettono nella sua rassegna decide quale artista promuovere e quale artista no quale fotografo a quale fotografo far fare la mostra quale no però tu hai bisogno di economia per andare cioè tu devi pagare il volo devi pagare l'albergo quindi ti prendi quei 5.000 euro e ti metti a fare commercializzazione cioè commercializzare il prodotto che hai realizzato la prima parte è di investimento la seconda parte è di commercializzazione e forse dopo questo meccanismo qualcuno che ha 200 euro che vede la tua opera in una galleria d'arte dove magari ci sono stati grandi artisti e si fida quindi anche del direttore della galleria d'arte e tu hai avuto la capacità di convincerlo si fida e dice sto ragazzo c'ha 17 anni e di anni è uno sconosciuto magari tra dieci anni sarà importantissimo è quello che ho speso perché l'opera d'arte è un investimento da parte di chi la compra quello che ho speso oggi che è 200 euro forse tra dieci anni vale 20.000 euro allora questo è un progetto da là alla z che si può sostenere economicamente anche dopo lo start up anche dopo lo start up cioè loro ti hanno dato 25.000 euro ma il tuo progetto non è che termina quando finiscono i soldi non termina va oltre perché tu sei stato in grado di investirli e non di spenderli perché è una differenza sostanziale sappiate che quasi tutti coloro che hanno i finanziamenti pubblici spendono i soldi non li investono non li investono non li spendono invece tu devi ragionare sul fatto che quei soldi ti diano futuro cioè che quel progetto non finisca nel momento in cui sono finiti i soldi ma che possa andare avanti perché se non va avanti vuol dire che non è un'attività imprenditoriale i primi i primi bandi sono stati principi attivi ve li ho accennati purtroppo voi eravate troppo piccoli io ero troppo grande quindi né voi né io ho mai partecipato a un progetto di questo tipo era un po' diverso da metterci le mani principi attivi era un progetto dove veniva richiesto un progetto di qualsiasi tipologia a fondo perduto ti do 25.000 euro tu lo devi realizzare sono arrivata migliaia di proposte alla regione Puglia ne sono state approvate di quelle migliaia qualche migliaio di quei progetti credo che 9 su 10 non ce n'è più in piedi neanche uno è chiaro anche che voglio dire c'è l'inesperienza voglio dire non è che uno nasce l'abbiamo detto prima imparato però molti di quei progetti erano realizzati con il pensiero anche se era richiesto che dovesse continuare nel tempo e che doveva essere economicamente sostenibile era richiesto e quindi uno si è sforzato di capire come ma 9 progetti su 10 sono finiti nel momento in cui è terminato l'anno ed è terminato il finanziamento ora non è che ogni volta che uno fa una cosa ha subito successo però deve iniziare a imparare a farlo per imparare a farlo lo deve fare perché non è che tu vivi dell'esperienza degli altri sicuramente è un'informazione in più quella che ti può passare e che puoi avere da un altro che ti racconta che cosa ha fatto ma poi tu devi provarci e per provarci devi sapere e per sapere ti devi informare ora quell'idea è una banalità perché quello come dire chi opera nel campo dell'arte visiva sa benissimo che funziona così tra l'altro c'è una cosa molto importante in Puglia allora immaginate uno che fa il fotografo appunto a New York dove ci sono 100 gallerie d'arte pensate secondo voi quante gallerie d'arte ci sono in Puglia non lo so se sono in tutta l'Italia ma in Puglia forse sarà una decina una ventina allora è chiaro perché noi siamo considerati una religione obiettivo 1 l'obiettivo 1 sono le regioni disagiate dove bisogna investire di più perché sono le regioni del mezzogiorno noi siamo il sud dell'Europa infatti c'erano dei fondi destinati proprio a queste regioni qua è chiaro che noi quando facciamo uno spettacolo teatrale o un concerto o una mostra abbiamo pochissime possibilità uno invece che fa il fotografo a New York dove ci sono solo nella città di New York 100 gallerie d'arte o 100 teatri ha molte più possibilità che lo vedano artisti di un certo livello che lo vedano critici di un certo livello quindi l'investimento da noi è piuttosto molto piuttosto non è molto facile nel campo dell'arte in genere dell'arte dello spettacolo dal vivo e dell'arte visiva assolutamente non è semplice però adesso ci sono 100 laboratori urbani dove magari puoi fare qualche passo dove puoi fare potenzialmente 100 mostre e quindi non farlo vedere soltanto a mille persone ma magari a 100.000 persone è qui che interessa anche la quantità e quindi conoscere vedere ma quanti sono dove sono e come sono fatti tutti i laboratori urbani sono obbligati dal progetto iniziale ad avere dei siti a pubblicare delle foto e quindi voi potreste sapere già facendo un paio d'ore di internet come sono e dove sono allora questo che significa alla fine che se tu prima avevi una possibilità su mille di farcela adesso hai una possibilità su 900 quindi hai una possibilità cioè una percentuale di possibilità più alta anche in un campo che prima in Puglia non esisteva che è quello della creatività altrimenti come tantissimi altri artisti vanno a suonare i matrimoni e tantissimi bravi fotografi vanno a fare le foto ai matrimoni che va bene cioè è un mestiere assolutamente onesto e sono anche bravissimi quelli che lo fanno ma probabilmente non era quello che tu volevi inizialmente devo bere l'acqua a fare le foto a fare le foto Grazie a tutti.